pensate che è stato venduto all'asta l'orologio di materiale oro in oro di una vittima del titanic pensate che questo oggetto ha inciso l'iniziale ossia JJA questo orologio d'ora è stato venduto all'asta e apparteneva ad un uomo d'affari americano che si chiamava John Jacob Astor quindi il fatto che sia stato trovato con le iniziali JJA sta a significare che proprio costui si chiamava John Jacob o Jacob Astor era un orologio in oro l'inafragio è venuto il 15 aprile dove nel 1912 ha salvito questo nuovissimo straordinario importante record è stato diciamo così portato via infatti questo meraviglioso orologio di quest'uomo che è morto giovanissimo a 47 anni nel navragio del titanic pensate con un patrimonio di 87 milioni di dollari e diciamo che questo roggio è in oro 14 carati quindi ha un bellissimo valore e direi se è stato riuscito a vendere è stato venduto beh che dire incontri di prima vero iscrivetevi mi raccomando al canale narratore italiano commentate una buona giornata a voi tutti e al prossimo video